Buongiorno a tutti, un caro saluto da Reykjavik in Islanda, dove è una bella giornata di sole, visti gli standard locali. Vi ringrazio per la partecipazione a questa sessione, a questa lezione del ciclo Il Maggio del GSSI. Questa è la prima lezione di informatica. Il mio collega Emilio Tuosto ne terrà un'altra, penso, per concludere questa serie. Quindi in un certo senso sono un po' il suo aprivista oggi. Quello che cercherò di fare nella mia presentazione è di condurvi in un viaggio che posso definire millenario, che ha portato alla nascita di una nuova scienza, all'informatica e a tutti i sistemi informatici che utilizziamo tutti, e voi specialmente, perché voi siete, contrariamente a me, siete dei nativi dell'era informatica. Utilizziamo quotidianamente. Tutti questi strumenti che utilizziamo, però, hanno delle basi scientifiche interessantissime di cui molti ignorano l'esistenza. Il mio scopo oggi è appunto di narrarvi la storia di queste basi scientifiche e di presentarvele in maniera il più accessibile possibile. Il grande matematico italiano e anche filosofo Giancarlo Rota, che lavorava all'MIT a Cambridge, Massachusetts, dice che il segreto di una buona lezione è di dare all'uditorio un messaggio da portare a casa. Siccome nelle mie presentazioni cerco sempre di seguire il consiglio di Giancarlo Rota, fatemi presentare già dall'inizio il messaggio che vi voglio dare e lo faccio in forma mitologica, presentandovi uno dei più grandi eroi della mitologia greca, Ercole, che vedete sulla slide, e ve lo presenterò anche come uno dei primi informatici della storia. Adesso vi racconto perché. Vi potrà sembrare qualcosa di assurdo, ma in realtà non lo è. E cercherò di convincervi di questo fatto. Tutti voi probabilmente conoscete la storia di Ercole, ma vi racconto la parte saliente che mi interessa per il prosieguo della narrazione. Ercole, come sapete tutti, era un personaggio fortissimo, così forte che già nella culla aveva strangolato un paio di serpenti che erano stati mandati per ucciderlo. Poi però, dopo aver bevuto troppo, ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, ha ucciso un po' di persone, e gli dèi lo condannarono a servire il malvagio re Euristeo. Euristeo era onorato di avere un servitore così forte e potente, però ne aveva anche paura, e giustamente, perché Ercole era fortissimo. E allora gli diede queste dodici fatiche da fare. Vedete sulla slide che Ercole ha ucciso il leone di Nubia e ne usa la pelle per proteggersi dal freddo, anche se non ne ha bisogno. Euristeo, dopo aver ricevuto la pelle del leone Nubiano, diede una nuova fatica a Ercole, quella di combattere contro l'idra di Lerna, un mostro terribile, fetido, puzzolente, con tantissime teste. Ma non solo. Voi direte, vabbè, le teste possono essere tagliate. E infatti è così. Il problema con l'idra di Lerna, però, era che ogni volta che una testa veniva tagliata, ne spuntavano due al suo posto. Quindi se uno parte con due teste, ne taglia, le taglia entrambe e se ne ritrova quattro, le taglia tutte e se ne ritrova otto, poi se ne ritrova sedici, poi se ne ritrova trentadue. Questo è un classico esempio di crescita esponenziale. Fino a poco fa, gli informatici erano tra i pochissimi esseri umani che avevano un'idea chiara e dovevano combattere con la crescita esponenziale, insieme ai virologi. Adesso tutti quanti, dopo aver sperimentato la realtà della pandemia, abbiamo idea di cosa vuol dire combattere contro un processo che abbia una crescita esponenziale. Voi direte, il compito di Hercule era impossibile, ma Hercule era un informatico, un informatico antelitteram, quindi ha pensato a una soluzione con l'aiuto di una dea. Con una mano e con la sua clava tagliava le teste, ma con l'altra cauterizzava le ferite perché aveva una torcia nell'altra mano. In tal caso è riuscito a fermare la crescita esponenziale e ha sconfitto l'idra di Lerna, riuscendo a fare qualcosa di praticamente impossibile. E questo mi porta al messaggio. Così come Hercule ha risolto un problema apparentemente impossibile, pensando a una soluzione creativa, così lo fanno gli informatici quotidianamente. e l'hanno fatto almeno dal 1936 in poi. Perché la maggior parte delle cose che vorremmo fare nell'informatica sono pressoché impossibili, o sono impossibili, e lo saranno per sempre. E questi risultati di impossibilità sono stati dimostrati con dimostrazioni matematiche. Quindi valgono non solo oggi, ma da oggi ed in futuro. Questo però non ci ha non ci ha fermato. Gli informatici hanno fatto in ogni caso tutte queste cose impossibili e facendolo hanno costruito la società in cui viviamo e gli strumenti che utilizziamo quotidianamente. E continueranno a non fermarsi davanti all'impossibilità per il futuro. E infatti spero, spero, che alcuni di voi contribuiranno in futuro a costruire i sistemi informatici e sviluppare gli algoritmi e i protocolli che ci consentiranno di risolvere problemi impossibili negli anni a venire. Se la mia presentazione vi stimolerà un pochettino a intraprendere questo studio e a risolvere problemi impossibili in futuro, vuol dire che avrò raggiunto uno dei miei scopi. Allora, è il momento di cominciare il nostro viaggio intellettuale. Allacciatevi le cinture di sicurezza perché adesso partiremo in un viaggio al cui confronto le montagne russe più grosse che vi potete immaginare non sono niente. Partiamo. Potrei cominciare da Aristotele, ma non ho il tempo di farlo, quindi parto da diversi secoli fa, ma più vicini a noi. Vi presento due grandi dell'informatica. Il primo probabilmente già lo conoscete, è Gottfried Willem Leibniz, grande filosofo che alcuni di voi studiano a scuola. Ma probabilmente voi studiate le monadi e altre cose, non le cose più importanti che Leibniz ha fatto, perché Leibniz è stato uno dei primi informatici della storia. Che cosa ci ha detto Leibniz? Leibniz ha propulgato l'idea di avere una cosa che lui chiamava il calculus ratiocinator. Oggi chiameremo il calculus ratiocinator di Leibniz un linguaggio di programmazione o un linguaggio per la rappresentazione della conoscenza. Leibniz diceva che i filosofi naturali, che era il termine che si usava all'epoca per definire gli scienziati, quando non si potevano mettere d'accordo sulla veridicità o meno di un risultato o di un argomento, avrebbero dovuto codificare questo argomento nel suo calculus ratiocinator, calcolare utilizzando le regole che erano parte del calculus ratiocinator. oggi diremmo avrebbero fatto girare un programma che rappresentava il problema e alla fine sarebbero arrivati a un risultato e vedendo questo risultato sarebbero stati tutti d'accordo. Come diceva lui, quando siete in un dubbio calculemos, calcoliamo. L'altra persona che trovate sulla slide è Donald Knuth, probabilmente non lo conoscete, è uno dei più grandi informatici del XX secolo e anche del XXI secolo ed è anche il Gutenberg del nostro tempo perché è lui che ci ha dato la tipografia digitale che ci permette a tutti di pubblicare i loro testi in forma come se fosse stata creata da una tipografia vera. Le slide che vedete le ho generate utilizzando il sistema LaTeX che è una variante del sistema TeX creato da Knuth esattamente per questo scopo. Donald Knuth dice che scienza è tutto quello che capiamo abbastanza per insegnarlo a un computer. Arte è tutto quello che facciamo. da sempre l'uomo si è posto tante questioni filosofiche ma una delle questioni filosofiche più importanti è quali problemi possono essere risolti scientificamente ed è se mi consentite un altro pochettino di filosofia uno dei problemi fondamentali che viene affrontato da Kant nella critica della ragione pura. Se seguiamo il detto di Knuth il problema diventa quali problemi possono essere risolti utilizzando il metodo dell'informatica perché come diceva anche un articolo su New York Times di tanti anni fa tanti per me e per voi sono del 2001 molti di voi non erano nati nel 2001 all science is computer science ogni scienza non è altro che l'informatica è esattamente quello che ci dice in mente quindi quali problemi possono essere risolti utilizzando i metodi dell'informatica nel 1984 il Time Magazine che è una delle riviste più influenti settimanali che vengono pubblicate ha fatto un numero speciale sul software e intervistando l'editore di una rivista del software questa persona ha detto mettete il software giusto nel computer e farà tutto quello che volete forse ci sono limiti a quello che possiamo fare con i computer stessi con le macchine ma non ci sono limiti a quello che possiamo fare col software in altre parole seguendo il dettame di donald knuth non ci sono limiti a quello che la scienza può fare perché tutta la scienza non è altro che informatica giusto o sbagliato non solo questo è sbagliato ma è sbagliatissimo c'è un bellissimo libro di david darell che vi consiglio di leggere c'è anche una versione in italiano ma probabilmente la potete solo trovare nelle biblioteche che si chiama computers limited what they really can't do ci sono tantissime cose che vorremmo risolvere con i metodi informatici con i metodi scientifici se volete ma che non possono essere risolte volete degli esempi prima di dalveri vi dico che non solo il nostro universo fisico è regolato da leggi universali ma anche l'universo computazionale è regolato da leggi che esprimono i limiti ultimi della computazione se qualcuno vi dice di costruire una macchina per il moto perpetuo probabilmente non ci avete studiato un po' di fisica non comincerete neanche perché non è possibile quello che vedrete adesso nel resto della presentazione sono problemi computazionali scientifici per i quali il metodo computazionale non ha la potenza necessaria per risolvere signori della giuria vi do alcuni esempi esempio numero uno e questi sono esempi una serie di esempi classici che vengono che gli informatici antelitteram hanno esaminato dal 1936 circa quindi la risposta negativa le cose che ci dicono che i commenti dell'editore della rivista di software citata da Time Magazine era sbagliatissimo si basano su cose che un informatico avrebbe dovuto sapere dal 1936 primo esempio conoscerete probabilmente i numeri reali questi sono tutti i numeri che disegnate sulla sulla retta o nel piano se volete quelle sono coppie di numeri reali sono numeri come pi greco e radice quadrata di 2 1 2 1,4 periodico tutti questi sono numeri reali nella fisica nella matematica vogliamo fare calcoli che hanno a che fare con i numeri reali possiamo calcolarli tutti vorremmo ma possiamo farlo beh una prima cosa che sicuramente vi verrà in mente è che probabilmente abbiamo dei limiti le nostre memorie sono limitate spesso e volentieri il nostro computer dopo che abbiamo fatto un download di troppi video ci dice che non c'è memoria sufficiente quindi forse non possiamo farlo perché non abbiamo abbastanza memoria beh non vi preoccupate consideriamo un computer ideale che essenzialmente ha una memoria illimitata beh insomma la memoria è sempre limitata però ogni volta che corriamo il rischio di usarne troppa arriva un piccolo elfo teleportato che ci dà 1000 gigabyte gratis quindi essenzialmente non finiremo mai la nostra memoria inoltre abbiamo tutto il tempo del mondo a nostra disposizione quindi possiamo aspettare quanto ci pare per avere la risposta ai nostri problemi di calcolo dato questo contesto ideale il nostro computer ideale potentissimo possiamo calcolare tutti i numeri reali vedremo dopo tutto abbiamo tutto il tempo del mondo come diceva Louis Armstrong in un film di James Bond altra domanda nel possiamo determinare la verità di un qualsiasi teorema matematico utilizzando metodi di calcolo metodi di informatica algoritmi questo era il sogno di David Hilbert uno dei più grandi matematici del ventesimo secolo voleva avere mettere la matematica in un contesto logico in un contesto computazionale in cui ci sarebbe stato un metodo di calcolo così potente che dato come input un qualsiasi teorema matematico avrebbe ci avrebbe consentito di determinare se questo teorema è vero o è falso sarebbe bellissimo avere questo sistema pensate dopo questo se ci fosse i matematici potrebbero andare a fare qualcosa di molto utile come svuotare il mare di Pescara con con un secchiello è possibile? terza domanda non so se avete mai scritto un programma però ogni tanto se scriviamo un programma questo programma potrebbe non terminare se gli diamo in input dei dati specifici siccome la non terminazione non è qualcosa di molto piacevole sarebbe bellissimo avere un programma che dato come input un programma e un input per quel programma ci può dire se quel programma terminerà o meno con quel dato input si può fare la risposta a tutte queste a queste tre domande e a tantissime altre è no o come dice questo personaggio dallo show Little Britain computer says no questi sono tutti teoremi matematici che sono stati dimostrati intorno al 1936 da Alan Turing Alonso Church e alcuni degli altri informatici sicuramente conoscete tutti Alan Turing che è stato anche il soggetto di diversi film di recente consentitemi un piccolo excursus tecnico nella mia storia tra queste tre cose che ho menzionato questi tre problemi che non si possono risolvere vorrei dimostrarvi vorrei mostrarvi la dimostrazione per il fatto che non si possono calcolare tutti i numeri reali è una cosa corta e bellissima una delle più belle dimostrazioni mai fatte in matematica perché non si possono calcolare tutti i numeri reali questa è una dimostrazione in due passi il primo passo è la realizzazione che il numero di programmi che possiamo scrivere in un qualsiasi linguaggio di programmazione è esattamente alla stessa grandezza dell'insieme dei numeri naturali 0 1 2 3 4 e così via i numeri che abbiamo usato per contare da sempre questo perché? perché essenzialmente un programma non è altro che una sequenza di bit di 0 o 1 infatti il sistema binario è un'altra delle cose che ci ha dato Leibniz che vi ho presentato prima uno dei grandi informatici antelittera lui ha raffinato il sistema binario quindi ogni programma non è altro che una sequenza di bit e una sequenza di bit non è altro che un numero naturale quindi per ogni programma c'è un numero naturale che lo rappresenta allo stesso modo ogni numero naturale può essere visto rappresentato come una sequenza di bit e quindi essenzialmente è un programma per questo i programmi sono tanti quanti i numeri naturali quanti sono i numeri reali? questa è una domanda che si è porto Georg Cantor un grandissimo matematico nel diciannovesimo secolo che ha creato lo studio della teoria dell'infinito matematico e una delle prime cose dimostrate da Georg Cantor è che i numeri reali sono molti di più dei numeri naturali quindi ci sono numeri reali per cui non c'è nessun programma che può calcolare allora come ha dimostrato Georg Cantor che i numeri reali sono molti di più dei numeri naturali? la dimostrazione è grafica e la vedete sul lucido prendiamo tutti i numeri reali tra 0 e 1 e li rappresentiamo come sequenza infinita quindi c'è uno 0 che io non mostro virgola in inglese un punto seguito da una la rappresentazione infinita del numero se i numeri reali fossero tanti quanti i numeri naturali li possiamo enumerare c'è il primo numero reale il secondo numero reale e non sono altro che le righe di questa matrice infinita quello che fece Cantor è dimostrare che non importa come li organizziamo in questa matrice potremo sempre costruire un numero reale che non è nella lista come lo facciamo? utilizzando un procedimento che Georg Cantor chiamò procedimento diagonale focalizzatevi sulla diagonale in blu in questa sequenza di numeri questo ci dà il primo numero dopo la virgola del primo numero il secondo numero dopo la virgola del secondo numero il terzo numero dopo la virgola del terzo numero e così via e cominciamo a viaggiare lungo la diagonale e costruiamo un nuovo numero secondo questa regola se il numero che vediamo lungo la diagonale è dispari mettiamo uno zero nella corrispondente posizione del nuovo numero se invece è pari mettiamo un uno e in questo modo costruiremo il numero seguente in questo esempio che abbiamo siccome nella prima posizione del primo numero abbiamo un sette che è dispari mettiamo uno zero nella seconda posizione del secondo numero troviamo un nove che è dispari mettiamo un altro zero nella terza posizione c'è zero che è un numero pari mettiamo un uno perché quel numero lì è pari e così via questo numero che abbiamo creato non è altro che infatti un numero binario che non è nella lista di tutti i numeri reali che pensavamo di avere il che ci dà una contraddizione infatti non può essere il primo numero perché lì c'è un numero dispari e nel nostro numero c'è un numero pari non può essere il secondo perché lì c'è un numero dispari e in quella posizione il nostro numero è un numero pari e così via chiusura dell'intermezzo pensateci e riuscirete a convincerti a convincervi che questa dimostrazione funziona quindi i numeri reali sono molti di più dei numeri naturali e non ci sono abbastanza programmi per calcolarli tutti questo è essenzialmente il messaggio di questa dimostrazione consentitemi anche di dirvi che anche se noi parliamo di infinito come se fosse una sola cosa l'infinito matematico infatti è sua volta infinito c'è un'infinità di livelli di infinito che è qualcosa che Borges ha definito come uno dei concetti più incredibili della mente umana e che spesso e volentieri ci induce in contraddizioni e paradossi ma non in questo caso quindi ci sono cose che nessun computer anche con potenza illimitata potrà mai risolvere focalizziamoci ora sui problemi che i computer in realtà possono risolvere sappiamo abbiamo algoritmi per risolvere abbiamo metodi per risolverli utilizzando il metodo computazionale una volta che vogliamo risolvere qualcosa però la domanda che ci vogliamo fare è se possiamo risolverli in modo efficiente perché non vogliamo aspettare anni per ottenere risposte a problemi vogliamo che il computer ci dia risposte in modo efficiente uno dei problemi classici per esempio che vogliamo risolvere è il problema del commesso viaggiatore io sono un commesso viaggiatore ho un budget che mi dice quanto posso spendere ho una serie di città che voglio visitare siccome mi annoio che debbo visitare nel mio lavoro e siccome mi annoio a visitare la stessa città più di una volta ogni volta che vado a fare un mio giro di rappresentanza voglio sapere che se utilizzando il mio budget posso visitare le città seguendo le connessioni aeree tra di loro in modo tale da rimanere nel mio budget e visitare ognuna di loro esattamente una volta esiste un metodo efficiente per trovare un metodo di viaggio per il commesso viaggiatore? altra domanda probabilmente conoscete tutti le regole della genetica di Mendel e anche se non lo sapete non importa però oggi gli informatici insieme ai biologi utilizzano algoritmi per esaminare dati genetici per esempio per studiare il genoma del coronavirus del covid-19 una delle cose che vogliamo avere dato un pedigree non è solo per i cani è anche per gli esseri umani e per i virus il pedigree è quello che vogliamo sapere se i dati genetici che abbiamo nell'albero familiare per esempio il mio sono consistenti con le leggi dell'eredità di Mendel perché se non lo sono vuol dire che abbiamo dati fallaci ed è inutile fare analisi statistiche dei dati che abbiamo dati genetici che abbiamo esiste un metodo efficiente per determinare se i dati genetici sono consistenti con le regole di Mendel o più in generale possiamo automatizzare la creatività in modo efficiente per esempio la creatività umana anche qui la risposta è probabilmente negativa computer says no per tutti questi problemi che ho menzionato e per tanti altri abbiamo algoritmi per risolverli ma questi algoritmi crescono in modo esponenziale nel caso peggiore con la crescita dei dati di input esponenziale non è efficiente vorremmo avere algoritmi che almeno si comportano in modo polinomiale rispetto all'efficienza non crescono come 2 alla potenza di n dove n è la grandezza dell'input ma come n al quadrato diciamo in generale possibilmente il logaritmo di n dove n è la grandezza dell'input o qualcosa di simile in questo caso questi non sono risultati che sono stati dimostrati matematicamente da 50 anni a questa parte gli informatici hanno cercato di trovare metodi efficienti per risolvere questi problemi e migliaia di altri che sono risolvibili ma non ci sono riusciti questo è uno dei problemi il cosiddetto P versus NP non vi sto a dire cosa vogliono dire questi acronomi ma è uno dei sette problemi che il Clay Mathematical Institute nel millennio precedente ha scelto come uno dei più grandi problemi matematici infatti un problema informatico da risolvere e c'è un milione di dollari come premio per chi riuscirà a risolverlo non vi consiglio di provare almeno non subito la cosa estremamente interessante è che questi tre problemi che provengono da aree dello scibile umano e della scienza completamente diversi in realtà computazionalmente sono lo stesso problema perché se qualcuno un domani riuscirà a trovare un metodo efficiente per determinare se i dati genetici sono consistenti automaticamente questo ci dirà ci darà un metodo efficiente per risolvere il problema del commesso viaggiatore e automaticamente questo ci darà un metodo efficiente per automatizzare la creatività umana interessante eh esempio numero tre supponete che voi adesso che potete uscire probabilmente potete andare a mangiare una pizza insieme volete determinare dove andare a mangiare la pizza insieme ai vostri amici e siccome siete uomini e donne digitali volete farlo utilizzando un messenger o qualsiasi whatsapp o qualsiasi altro strumento voi usate e supponete che uno dei vostri amici non risponde per un po' volete raggiungere un consenso sulla pizzeria in cui andare utilizzando uno di questi metodi senza telefonarvi perché non volete telefonarvi volete usare messenger whatsapp l'email qualunque altro sistema vogliate usare volete trovare un protocollo per comunicare tra di voi che anche che funzioni vi consenta di raggiungere un consenso anche se qualcuno dei vostri amici non risponde è possibile no non è possibile computer says no c'è un famoso risultato di teoria della computazione dimostrato da Fisher Nancy Lynch e Mike Patterson che dice che un qualsiasi protocollo vi possiate inventare ha sempre la possibilità di non terminare ricordate il problema della terminazione che vi ho menzionato prima non è possibile determinare se un programma termini la sua computazione su un dato input in generale beh questa è esattamente la stessa cosa ma nel problema del determinare se volete andare in pizzeria su quale sia la pizzeria in cui volete andare a mangiare tutti insieme e questi sono teoremi matematici che ci dicono che se anche solo uno dei vostri compagni non risponde essenzialmente non potrete determinare poi non potrete raggiungere un consenso e non importa quale tra il numero infinito di algoritmi di metodi di protocolli che potete scegliere userete ma infatti c'è di più c'è una doccia freddissima della teoria della computazione che si chiama il teorema di Reiss e che è stato dimostrato negli anni 50 che essenzialmente ci dice che questi esempi di risultati di impossibilità che vi ho dato non sono esempi sono la norma essenzialmente le sole proprietà dei sistemi computazionali che possono essere verificate utilizzando metodi computazionali sono quelle banali sono quelle che o tutti i sistemi hanno o nessuno di loro ha terribile questa povera ragazza ha appena letto il teorema e si è fatta una doccia fredda per riscaldarsi un pochettino ma arrivati a questo punto sicuramente voi mi vi ponete questa domanda e mi chiederete scusa Luca ma visto che gli informatici non possono fare niente com'è possibile che hanno creato un sistema come IBM Watson che ha essenzialmente tritato i migliori esperti umani nel gioco di Geopardy com'è possibile che DeepMind ha costruito AlphaGo che ha battuto e oramai non ci gioca più neanche perché è troppo superiore tutti i migliori giocatori umani nel gioco del Go e com'è possibile avere macchine che si guidano da sole che oramai sono una realtà informatica e che tra poco saranno anche una realtà nelle nostre strade com'è possibile che noi abbiamo nel nostro telefonino la potenza di un super calcolatore e che oramai i sistemi informatici ci consentono di fare tutto e il contrario di tutto beh appunto perché gli informatici non sono stati fermati da questi risultati di impossibilità e hanno utilizzato questi risultati di impossibilità per rendere possibile l'impossibile i risultati di impossibilità della non esistenza di algoritmi efficienti per risolvere alcuni dei problemi che ho menzionato in precedenza sono alla base dello shopping sicuro sull'internet penso che tanti di voi utilizzino Amazon.it e ogni volta che comprate qualcosa date a Amazon la vostra carta di credito com'è che vi potete fidare e non vi immaginate sempre che gli hacker riescono a prendere il numero della vostra carta di credito ogni tanto ci riescono ma non sempre non esisterebbe l'e-commerce se gli hacker potrebbero sempre prendere la vostra carta di credito beh questo si basa su quei risultati di impossibilità in questo caso sulla congetturata difficoltà del dividere un numero nelle sue componenti prime com'è possibile fare analisi di programmi per fare in modo che funzionino che fanno quello per cui sono disognati di fare questo è un problema impossibile ed è stato dimostrato che è un problema impossibile ma i nostri colleghi lo fanno quotidianamente ormai com'è possibile avere un voto elettronico anonimo la dimostrazione probabilistica è una delle più grandi conseguenze intellettuali dei risultati di impossibilità gli informatici hanno sviluppato dei metodi per verificare se delle dimostrazioni matematiche sono corrette o meno senza bisogno di leggerle tutte basta vedere solamente qualche bit di una dimostrazione di migliaia di pagine e con altissima probabilità riescono a determinare se la dimostrazione è vera o sbagliata scusatemi una gran figata e tutto questo si basa su qualcosa che vi descriverò tra poco e che si chiama dimostrazione a conoscenza zero zero knowledge in inglese e sicuramente alcuni di voi hanno seguito gli sviluppi nella computazione quantistica anche lì piena di risultati di impossibilità sia ingegneristica che teorica eppure questo non ci sta fermando nel costruire computer quantistici sempre più potenti sicuramente sono sicuro che ne userete qualcuno in futuro allora ho promesso di farvi vedere di darvi una dimostrazione di dimostrazioni a conoscenza zero per introdurre il problema fatemi raccontare l'ultima storia della mia narrazione supponiamo che io sia un magnate delle comunicazioni chiamatemi trumpotto e voglio sviluppare una rete di comunicazione cellulare voglio sistemare delle torri di comunicazione che sono questi cerchi con dei numeretti dentro nel mio modello questo è un modello piccolino della rete enorme che voglio sviluppare ma voglio fare in modo di assegnare una frequenza di comunicazione alle sorgenti alle torri di comunicazione in modo tale che non ci sia interferenza questo è un problema che si può rappresentare graficamente posso utilizzare questo oggetto che vedete a sinistra nella slide che si chiama un grafo in cui i nodi i cerchietti rappresentano le torri di comunicazione e gli archi che connettono questi cerchietti rappresentano la presenza o meno la possibilità o meno di interferenza dare una frequenza separata evitando interferenze alle torri di comunicazione si può rappresentare come un gioco che non è altro che quello di colorare i nodi del grafo con dei colori che rappresentano le frequenze in questo caso porpora celeste rosso o arancione che ci dicono che rappresentano le frequenze e la colorazione è corretta se due nodi del grafo due torri che sono connesse da un arco non hanno lo stesso colore per esempio quella che vedete sul lucido sulla slide è una colorazione corretta del grafo questo è un gioco che vi consiglio di fare diventa un problema computazionale difficile esattamente esattamente lo stesso problema della genetica del commesso viaggiatore della creatività è un problema equivalente a quelli che vi ho presentato prima se ci sono almeno tre colori nella nostra palette di colori allora questo è un problema computazionamente difficile io non lo so risolvere in generale per grafi molto grandi come quelli che ho in mente di fare allora chiedo il supporto di una ditta tecnologica che chiamerò Google quindi chiederò a Google di colorare la mia rete il mio grafo con tre colori siccome voglio essere sicuro che Google riesca effettivamente a colorare in modo corretto la mia rete li pagherò solamente se producono una colorazione valida Google però vuole essere pagato e mi farà vedere la colorazione solo se ho pagato tutto quello che gli devo questa è una situazione di un impasse apparentemente impossibile io pago solamente se mi fanno vedere la soluzione e loro mi fanno vedere la soluzione solamente se li pago come ne usciamo da sta cosa qui beh è una cosa apparentemente impossibile quindi when the going gets tough gli informatici get going cominciano a lavorare e hanno sviluppato dei protocolli esattamente per ottenere questo consenso e questi protocolli li si chiamano a conoscenza zero utilizzando un protocollo a conoscenza zero un Google riuscirà a convincermi oltre ogni prova di dubbio che loro sanno colorare il grafo senza però farmi vedere come farlo impossibile direte voi come si fa allora supponiamo ecco qui il protocollo ve lo descrivo in un paio di lucidi prima di completare io do il mio grafo da colorare a Google gli ingegneri di Google i loro programmi essenzialmente colorano il grafo ma mi fanno vedere il grafo con dei cappelli che coprono la colorazione quindi io non so essenzialmente se la loro colorazione funziona perché non posso vedere nessun colore tutto è nero allora cosa faccio scelgo un arco di interferenza e gli chiedo di farmi vedere il colore di quei due nodi supponiamo che scelgo per esempio il nodo 7 il nodo 8 gli ingegneri di Google mi fanno tolgono i cappelli che coprono la colorazione di questi due di questi due nodi e posso esaminare se la colorazione è giusta o sbagliata in questo caso la colorazione è giusta perché i due nodi sono connessi e hanno colori diversi beh che conclusione posso trarre da questo fatto beh che in Google sa colorare quei due nodi ma negli altri nodi potrebbe aver barato però la probabilità che in Google vari è essenzialmente il numero degli archi meno uno diviso il numero degli archi per esempio se ci sono mille archi è 999 su mille la probabilità che in Google vari al più beh è alta la probabilità che in Google vari allora che cosa facciamo ripetiamo questo processo chiedo a Google vabbè andate ricolorate e fatemi vedere la la nuova soluzione loro mi fanno vedere la soluzione con i cappelli che corrono i colori io scelgo ancora a caso un altro paio di nodi che sono connessi Google mi far vedere i colori di questi due nodi se Google ha barato e io li scopro vedendo i colori di questi due nodi allora so che non sanno colorare il grafo e non li pago altrimenti continuo a ripetere questo procedimento e ripetendolo un numero sufficiente di volte riesco a ridurre la probabilità che Google vari essenzialmente a zero spettacolare Google non mi ha mai fatto vedere come colora il grafo in modo corretto però mi può convincere utilizzando questo protocollo che lo sa fare a quel punto quando sono convinto con probabilità elevatissima che lo sa fare li pago e loro mi fanno vedere la colorazione non ho imparato niente prima che loro me lo facciano vedere sulla colorazione ma solo il fatto che in Google lo sa fare fatemi concludere come ha detto Douglas Rushoff il vostro futuro è semplice imparate a programmare o sarete programmati vi consiglio di imparare a programmare vi consiglio di studiare l'informatica vi consiglio anche se farete altre cose di studiare l'informatica un pochettino in ogni caso perché alla fine all science is computer science tutto quello che farete userà il metodo dell'informatica che è il metodo della scienza del ventesimo secolo spero che se i vostri amici vi chiederanno cosa vi ha detto Luca durante la sua presentazione oggi farete un pochettino una parafrasi di quello che dice Ratger Auer in Blade Runner il replicante non avrete forse visto navi spaziali in fiamme sulla cintura di Orione ma avrete visto come gli informatici risolvono problemi impossibili praticamente o effettivamente impossibili quotidianamente per costruire il mondo in cui viviamo fatemi concludere con il messaggio della presentazione ve lo do un'altra volta dopo averlo detto all'inizio e dopo averlo appena detto gli informatici costruiscono il futuro trasformando l'impossibile nella realtà di tutti i giorni come dicono gli inglesi il loro lavoro è una frontiera senza fine il mondo è la loro ostrica e se non vi piacciono le ostriche potete considerare le rostelle ma quelle del pescarese però vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e sono pronto a rispondere alle vostre domande mentre aspetto le vostre domande se vi ho stimolato un pochettino a studiare l'informatica vi consiglio questo libro edito da Zanichelli che si chiama Problemi Algoritmi e Coding scritto da Pierluigi Crescenzi e Linda Pagli che sono due ottimi divulgatori e due informatici di altissimo livello e vi consiglio altresì di seguire la presentazione del mio collega Emilio Tuosto che chiuderà la serie del maggio al GSSI in caso abbiate delle domande chiedete pure non so se sia una domanda però c'è un commento non so se sia una domanda però c'è un commento di uno degli ascoltatori che dice tutto molto bello ma non credo che le macchine autopilotate saranno mai una realtà al massimo guida assistita ormai sono dieci anni che ce la promettono e allora la guida assistita è è esistita già da tanto tempo le macchine autopilotate già esistono vengono usate semmai verranno usate su larga scala questo dipende da tantissime cose ci sono ovviamente dei problemi di natura legale dei problemi di natura sociale che sono importanti tanto quanto i problemi tecnici tecnicamente le macchine che autopilotate esistono hanno fatto milioni di miglia negli Stati Uniti e in altri posti anche in ambienti cittadini però il fatto che possono essere costruite non implica che debbano essere utilizzate su larga scala ci sono tantissimi problemi da risolvere e da considerare l'informatica sta diventando sempre più una scienza sociale oltre che una scienza della computazione perché tutti gli strumenti sviluppati dagli informatici hanno un impatto sulla società in cui viviamo gli informatici fino adesso hanno spessissimo ignorato questo aspetto ma c'è una crescente consapevolezza del fatto che dobbiamo spesso chiederci non se possiamo costruire qualcosa perché abbiamo le possibilità di costruire strumenti potentissimi ma se valga la pena farlo e quali sono i rischi che possiamo correre se lo facciamo per questo al GSSI per esempio il gruppo di informatica lavora in stretta connessione con il gruppo di scienze sociali con cui abbiamo un proficuo dialogo connessione 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.